In Sicilia avere l'alta velocità ferroviaria, la chiusura dell'anello autostradale e l'attraversamento stabile del ponte sullo stretto di Messina non sarebbe sufficiente a superare il divario di mobilità se poi le aree produttive dell'isola nel loro complesso non venissero connesse agli assi principali e le merci non potessero raggiungere rapidamente e agevolmente porti, aeroporti e terminali intermodali. Inizia così il comunicato della Union Camera Sicilia sulla presentazione del piano strategico per le infrastrutture nell'isola. Nella fattispecie il piano strategico realizzato da Union Camera Sicilia in sinergia con il sistema delle Camere di Commercio Esolane grazie a fondi di Union Camera Nazionale, individua 13 aree sulle quali velocemente e con poca spesa, secondo la proposta messa a disposizione dei nuovi governi nazionale e regionale e dei capitali privati, si possano realizzare nodi logistici interconnessi che consentano a qualsiasi azienda ovunque si trovi di collegarsi ai punti di destinazione dei propri prodotti. Sono, spiega Giuseppe Pace, presidente di Union Camera Sicilia, nodi logistici interconnessi che rappresentano il futuro della mobilità. Concetto ribadito dall'ingegnere Marco Calì dell'MC2 Innovation che con i colleghi Vincenzo Garofalo e Mauro Ballotta ha realizzato il piano strategico per Union Camera Sicilia. Un sistema infrastrutturale steso e sicuro, spiega, assieme ad una mobilità dei passeggeri e delle merci, rappresenta un elemento prioritario per lo sviluppo economico dei territori e per la competitività delle imprese. Secondo Alessandro Albanese, invece, il ponte è la madre di tutte le infrastrutture. Basta derbi Palermo-Catane su interporti e aeroporti, dice il vicepresidente di Union Camera Sicilia, vogliamo mettere d'accordo politiche e parti sociali. Gianfranco Messina, infine, project manager della ZES Sicilia Occidentale, annuncia che molte imprese estere hanno fatto domande di autorizzazione a insediamenti in aree ZES. Quanto alle infrastrutture, conclude Messina, abbiamo individuato l'asse viario principale, quello fra Termini Merese e Marsala, che passa da tre porti, due aeroporti e incrocia tutte le aree industriali di nostre competenze in 24 comuni. L'obiettivo del piano strategico per le infrastrutture nell'isola, recita la nota di Union Camera Sicilia, è quello di fornire analisi, ipotesi di intervento e contributo operativo allo sviluppo delle reti materiali ed immateriali, per supportare una più efficace pianificazione ed una veloce realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi su strade, ferrovie, porti, aeroporti, città, fiere, interporti e connessioni digitali.